Sul blocco sono previsti 46 milioni che verranno spesi, anche qui con la massima sollecitudine, ma che verranno assolutamente spesi. Mi permetto di ricordare però che ci sono in corso anche altri interventi sulla SST di Mantua per ammodernamento tecnologico per interventi vari per 32 milioni di euro e verranno previsti altri 13 milioni per nuovi interventi sempre legati alla SST di Mantua.